Sta per arrivare a Pordenone l'appuntamento con la Fortuna, giovedì 8 settembre, giornata in cui si festeggia la Madonna delle Grazie, patrona della città assieme a San Marco e che segna la ripresa di tutte le attività dopo le vacanze estive. Dal 1949, infatti, ogni anno, l'8 settembre, i pordenonesi si riuniscono davanti la loggia del municipio in corso Vittorio Emanuele per l'estrazione della tombola in piazza. L'evento, che inizia alle ore 17 e 30, è accompagnato dalla musica della filarmonica città di Pordenone ed animato dai Papu. Il duo comico, dopo il successo degli anni scorsi, anche quest'anno intratterrà il pubblico con sketch umoristici e presenterà l'estrazione della tombola fino a fine serata. Il Monte Premi in Paglio è decisamente appetibile, 1200 euro la tombola, 400 euro tombolino, 500 euro la cinquina e 300 euro la quaterna. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione per tutti i veicoli, in corso Vittorio Emanuele da Via del Mercato a Via Vendramini. Già dalle ore 15 fino alle ore 20 circa, nell'ultimo tratto del corso, vigerà il divieto di circolazione per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazione in deroga a norme che disciplinano la zona traffico limitato. Grazie. 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 Grazie.